Ciao ragazzi e ciao ragazze, io sono Antonio e finalmente si torna qui su YouTube, sul mio canale. In molti mi avete iscritto per sapere che fine avessi fatto, ma in realtà non sono mai andato via, mi sono solamente spostato sul canale Pottercast. Anche questo canale resta ovviamente attivo e da oggi continuerò a pubblicare video e nuovi contenuti, ma mi trovate in live ogni settimana alle 21 sul canale Pottercast. Per sapere il giorno esatto di ogni live dovete assolutamente seguirci su Instagram cercando Pottercast. Quindi ragazzi, mi raccomando, ci tengo davvero tantissimo. Cosa facciamo su questo canale? Trattiamo temi collezionistici, approfondimenti sul mondo di Harry Potter. Abbiamo avuto anche diversi ospiti, come ad esempio Serena Riglietti, la storica illustratrice delle prime copertine italiane di Harry Potter, o abbiamo avuto anche Francesco Vairano, ben due volte, la voce del mitico Professor Piton nella saga cinematografica. E potete recuperare questi video e queste interviste sul nostro canale, appunto, Pottercast. Dico nostro perché non sono da solo, ma sono accompagnato da Alessio, Alessio Salitore Art, lo trovate anche lui su Instagram, e vi ricorderete di lui perché mi ha omaggiato di quel Piton iperrealistico meraviglioso, ma ha fatto anche tantissime altre cose che vi consiglio di andare a recuperare sul suo Instagram, e anche Movera Collectibles, Graziano, che trovate sempre su Instagram, e per finire Rudy, ThePotterBook85, che invece trovate sia su Instagram che su YouTube. Grande collezionista di tutte le edizioni del mondo di Harry Potter, in tutte le lingue, ha una collezione davvero immensa ed è un grandissimo, grandissimo esperto, il più preparato in Italia. E, ragazzi, io vi consiglio di seguirci perché tramite Pottercast stiamo realizzando molte iniziative che vi racconterò anche nei prossimi video, e una su tutte, pochi giorni fa abbiamo portato Serena Riglietti a Palermo per un incontro con i fan, e molti di voi hanno avuto la fortuna di potersi accaparrare delle stampe esclusive e anche dei volumi firmati e tantissime altre cose belle, che vi farò assolutamente vedere nel prossimo video, perché meritano un video dedicato. E, ragazzi, lo dico già adesso, grandi novità in arrivo, perché ci saranno la nuova possibilità di incontrare Serena Riglietti, e seguite il canale, seguite Pottercast, per sapere dove potrete incontrarla e dove potrete incontrare tutti noi di Pottercast. Detto questo, oggi volevo fare questo primo video per, diciamo, rilanciare il canale, l'attività del canale, dove volevo mostrarvi una cosa, un regalo che mi sono fatto questo Natale. Chi mi segue in live su Pottercast lo ha già visto, anche su Instagram, ma mi faceva piacere parlarvene anche qui, faccia a faccia, su YouTube. Io da qualche anno, frequentando ormai da circa dieci anni Etna Comics, mi sono piano piano appassionato agli originali, a disegni originali, ad opere originali. Preferisco investire su questo più che su prodotti, ad esempio, Noble Collection. Come sapete ho venduto tutto quello che avevo in ambito collezionistico di merchandising e con quei soldi ho recuperato altre cose. Ad esempio ho recuperato il senza occhiali, che ci tenevo tantissimo ad avere. E nel frattempo ho anche recuperato altre cose. Negli anni, ad esempio, Etna Comics, ho recuperato questo, che è una tela disegnata da Sio, con questo bellissimo disegno, con il dottor culo cane. Abbiamo Sio, Marianne Giangela, abbiamo il super cane magico, Pikachu, Sushi, diciamo, tanti dei personaggi conici di Sio. E questo è stato praticamente il primo degli originali importanti che ho aggiunto alla mia collezione. Lo scorso anno, ad Etna Comics, lo scorso giugno, grazie all'asta di beneficenza che si tiene ogni anno, ve l'avevo già fatto vedere, ho recuperato questo Spider-Man 2099, spero si riesca a vedere bene, di Davide Paratore. Davide Paratore è un ragazzo giovanissimo, che lavora per Marvel, copertinista di Marvel, ultimamente per la serie di Moon Knight, e sono davvero felicissimo di essermi accaparrato questo originale, questo Spider-Man 2099. E ragazzi, visto che l'appetito vi è mangiando, io seguo da tanti anni Giulio Rincione. Giulio Rincione è un artista palermitano, che lavora anche lui con Disney, con Marvel, con Dylan Dogg, ad esempio trovate delle sue carte su Marvel Snap, il gioco per dispositivi mobili, ha anche lavorato per Paperi, Dirt, ha davvero fatto tantissime, tantissime cose, e il suo stile è inconfondibile, la sua mano è inconfondibile, e mi è sempre piaciuta moltissimo l'idea di poter possedere un suo originale. E visto che non sono mai riuscito ad aggiudicarmi un suo pezzo all'asta di beneficenza di Etna Comics, questo Natale mi sono deciso e mi sono fatto un regalo. Ho contattato Giulio, che ha anche un sito internet, ve lo lascio qui sotto nell'info box, per farmi realizzare una commissione. Giulio è disponibile a realizzare commissioni su praticamente qualsiasi personaggio voi vogliate, e io ho richiesto un Harry Potter. Ho fatto delle richieste ben specifiche, ho chiesto che fosse un Harry Potter bambino, al suo primo anno di Hogwarts, ho chiesto che fossero presenti cicatrice e occhiali, naturalmente, e poi, diciamo, nient'altro. Ho solo dato queste indicazioni, in realtà, e gli ho lasciato carta bianca. Giulio ha realizzato, secondo me, un'opera pazzesca, di grandissimo impatto, e che trasuda il suo stile. Infatti, eccolo qui, l'ha realizzato davvero in poco tempo, eccolo qui, spero non ci siano grandi riflessi nel video, questo è l'Harry Potter originale, fatto in acrilici su carta, che mi sono portato a casa, e io lo trovo davvero meraviglioso. Mi piacciono tantissimo queste figure geometriche che Giulio utilizza sempre nelle sue opere, che ritroviamo, in questo caso, nelle nocchie, qui nella mano, triangolari, che sono un elemento molto ricorrente nelle sue opere. Troviamo questi triangoli e rettangoli qui sulla manica e sulla tunica di Harry, e dei rettangoli anche sulla sciarpa, e poi ritroviamo dei triangoli anche tra i capelli. Queste linee, questi triangoli, queste linee così a zigzag, a me piacciono davvero tantissimo, e sono sempre sempre presenti nelle opere di Giulio. Inoltre, mi piace questa palette di colori che lui utilizza sempre, molto scura, questi arancioni, questi rossi, in contrasto col nero, col grigio. Mi piace tantissimo come ha realizzato gli occhiali, la cicatrice. Davvero, sono rimasto super super entusiasta, vi dirò la verità, avevo un attimo paura, perché era la mia prima commissione privata. Il costo è un piccolo investimento, però tu all'artista devi comunque dare fiducia. Se hai un artista che segui, che ti piace, devi dargli fiducia e devi dargli praticamente carta bianca. Io gli ho solo dato quelle due o tre indicazioni, appunto di Harry bambino con occhiale e cicatrice, il resto l'ha fatto tutto lui. Io sono davvero sbalordito, a me mi è piaciuta subito, più la guardo appeso in casa e più mi piace, non mi annoia mai. Lo trovo davvero, davvero un ottimo investimento, secondo me. Probabilmente in futuro me ne farò fare altri. Non so esattamente cosa, mi piacerebbe farmi dipingere un castello di Hogwarts, come mi piacerebbe, ad esempio, fare altri personaggi della saga di Harry Potter. Ma al momento mi accontento di questo, anche perché, ve lo dico, tramite il sito di Giulio, dove lui ogni tanto carica degli originali, già pronti, che naturalmente hanno un prezzo un po' più contenuto rispetto ad una commissione, ho già acquistato un altro pezzo, che dovrebbe arrivarmi a giugno, perché ho chiesto a Giulio di consegnarmelo direttamente al prossimo Etna Comics. E quindi, ragazzi, io spero vi piaccia tantissimo, come piace a me, questo Harry, questo capolavoro, secondo me, e voglio sapere assolutamente cosa ne pensate voi nei commenti, se avete mai fatto delle commissioni private, che non sia Harry Potter, ma anche Marvel, Disney, sappiamo che nelle fiere del fumetto è molto semplice farsi fare delle commissioni, ci sono lì tutti gli artisti, da Dylan Dogg, ai fumettisti Disney, come dicevo prima, ai disegnatori di Magic, carte Pokémon, c'è davvero un mondo enorme dietro questo tipo di collezionismo che io ho voluto un attimo intraprendere e penso che non mi fermerò qui, perché mi piace davvero tanto poter avere dei pezzi unici. Quindi, ragazzi, adesso scatenatevi con i commenti. Io vi do appuntamento prestissimo con un altro video, dove invece vi parlerò dell'evento che abbiamo fatto a Palermo con Serena Di Rietti e vi mostrerò tutto quello che ci siamo portati a casa. Vi dico solamente che i fortunati che ci seguono su Pottercast hanno avuto l'occasione di acquistare un disegno originale di Serena Di Rietti posto all'interno dei propri libri. Ci sono stati spediti dei libri, sono stati disegnati da Serena e adesso verranno riconsegnati ai proprietari. Libri numerati è un'operazione probabilmente che non verrà ripetuta in futuro, ma di questo ve ne parlerò più avanti. Quindi vi consiglio assolutamente di seguirci su Pottercast, questo è il nostro logo, lo trovate sia su YouTube che su Instagram, mi raccomando ragazzi non vi deludete. Detto questo io adesso chiudo il becco e vi do appuntamento tra un paio di giorni con un nuovo video e poi ragazzi dovrò annunciarvi anche una grossa, grossa notizia relativa a Ethna Comics 2024. Quindi staremo tutta l'estate insieme, mi raccomando seguiteci su Pottercast nelle nostre live settimanali, io vi saluto e noi ci vediamo presto su Pottercast e qui sul canale. Ciao!